È bella, anzi bellissima, ed è stata eletta dalla rivista americana SportsGrid, l'atleta più sexy dell'anno. Eppure questo titolo sembra andarle stretto. Paige Spiranak, 22 anni, originaria del Colorado, è un appassionato a giocatrice di golf appena passata da direttante al ruolo di professionista ed il fatto di essere bella le sta creando non pochi problemi. Invitata a partecipare per la prima volta in un torneo di professioniste, l'Omega Dubai Ladies Masters, si è qualificata a 94esima su 108 partecipanti e ha dovuto difendersi dall'accusa di essere stata scelta soltanto per il suo aspetto fisico e per la gioia degli sponsor. Mi rendo conto di non essere allo stesso livello delle migliori golfiste del mondo, ma lavoro duramente per arrivarci e gioco anche per i miei follower di Instagram, ha dichiarato Paige, che sulle sue pagine social ha raggiunto oltre 600.000 seguaci. Nonostante la sua avvenenza, la Spiranak ha raccolto molti consensi dalle sue colleghe golfiste e la veterana per eccellenza Laura Davis ha detto di lei al Daily Telegraph Non la conosco, ma ne ho ovviamente sentito parlare e se lei è una brava giocatrice è un bene che sia qui. Se invece, ha aggiunto, fosse qui per altri motivi, allora sarebbe un po' inutile, ma credo che tutti meritino di avere una possibilità.